Ci sono le mamme che dopo aver fatto dei corsi di formazione specifici leggono delle storie alle classi dei loro figli, ci sono le insegnanti che traghettano i più giovani al mondo della lettura con innovazione e tradizione, ma ci sono anche gli esperti di questo campo con autori, librai e giornalisti, una fitta rete che si muove scendendo in campo per un unico obiettivo condiviso e cioè stimolare alla lettura sin da piccoli. 16esima edizione per una vera e propria festa del libro ad Andrea, un festival che dall'8 maggio al 5 giugno coinvolge praticamente tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della città con capofila all'istituto comprensivo Imbriani Salvemini. Attraverso attività laboratoriali, attraverso buone pratiche e attraverso la condivizione di libri in un momento di festa. Questa manifestazione, noi alla festa del libro, è partita tanti anni fa tra le scuole primarie in rete, tra le scuole primarie e secondarie di primo grado, partita in sordina con un'attività dedicata solo per alcuni giorni. Adesso siamo arrivati a una settimana, una kermess di appuntamenti che vede autoria anche di fama nazionale e internazionale. Oggi prima giornata di Orientalibri, una delle attività più particolari, una gara in cui il vincitore davvero importa poco, ma che permette di avvicinarsi alla lettura scoprendo le bellezze architettoniche e storiche del centro antico cittadino. Sono state coinvolte in una gara che si chiama Orientalibri, che mescola l'orienteering, quindi l'arte di orientarsi e nello stesso tempo di scoprire il centro storico camminando lentamente, abbinato al superamento di prove che hanno a che fare con i libri. Tutti i ragazzi erano armati di libri nel loro zainetto, oltre all'acqua. La giornata, come hai detto tu, era bellissima, quindi è stata una vera e propria festa. A lavoro anche un'attenta giuria nel quartier generale della Biblioteca Ceci di Andria, luogo aperto ai più giovani sempre, ma in particolar modo in questi giorni, in cui tantissimi sono gli incontri per questa festa del libro. Un lento ma deciso ritorno alla normalità dopo il Covid-19, in cui far sì che la lettura sia attività sempre più prioritaria, anche per le famiglie, è anello essenziale di condivisione con il mondo della scuola. Io sono stato vittima del Covid, sono qua miracolato, e proprio il tema è questo, riappopiare il bambino di capacità dello stare insieme. Il libro lo fa, il racconto lo fanno, soprattutto io racconto morale ai papà e alle mamme. Dico sempre, i papà e le mamme che raccontano i bambini sono eroici, proprio epici, perciò dateci dentro. Sviluppare la fantasia, la competenza linguistica, la critica dell'opinione pubblica, la propria formazione. Leggere e scoprire il mondo che ci circonda è effetto essenziale di una festa come questa, nata grazie alla profonda collaborazione tra le scuole andriesi da circa un ventennio con il supporto dell'amministrazione comunale. Anche riuscire a far vedere ai bambini e ai ragazzi quanto sia concretamente bello il nostro centro storico dal punto di vista artistico e quanto stia dietro dal punto di vista storico, dal punto di vista formativo, letterario, eccetera, è una cosa che davvero è preziosa. La cosa bella è che è un percorso che viene fatto insieme da tutte le scuole.